Buon pomeriggio, benvenuti al secondo appuntamento con i Talk di Cinema Classroom, il programma dello schermo dell'arte di film e conversazioni in streaming dedicato alle scuole secondarie di secondo grado delle aree periferiche di Firenze e realizzato grazie al contributo della Fondazione Casta di Risparmio nell'ambito del bando partecipazione culturale. Io sono Anna Ricciardi, mi occupo dei progetti per scuole e università dello schermo dell'arte e sono qui oggi sul palco del Cinema della Compagnia ad accogliervi a questa conversazione e innanzitutto vi saluto e vi ringrazio tutti voi studenti, studentesse, docenti che avete aderito numerosi alla nostra iniziativa e vi ricordo che per intervenire durante questa conversazione potete utilizzare lo strumento della chat che trovate alla vostra destra sulla piattaforma con riflessioni, domande e interventi che verranno poi letti in diretta e come sapete il programma vi ha dato la possibilità di guardare dei film del nostro archivio, dell'archivio dello schermo dell'arte nove film tra documentari sull'arte contemporanea e film d'artista che ci hanno offerto degli spunti per riflettere non solo sull'opera di artisti contemporanei ma anche su tematiche di attualità quali ambiente, spazi pubblici e comunità, diritti umani e legalità ed è proprio a partire da questi spunti che abbiamo deciso di articolare le tre conversazioni in programma sabato scorso abbiamo parlato di spazi pubblici e comunità mercoledì sempre alle ore 15 parleremo di ambiente mentre oggi parliamo di diritti umani e legalità e lo faremo insieme al nostro ospite di oggi che è Justin Randolph Thompson che saluto, è qui con me sul palco della compagnia e ringrazio soprattutto per aver accolto il nostro invito ciao Justin ciao e ve lo presento subito Justin è un artista, un facilitatore culturale, un educatore è nato nello stato di New York ma vive ormai in Italia anzi qui a Firenze da più di vent'anni oltre a essere un docente, un educatore è anche cofondatore e direttore di Black History Month Florence un progetto nato nel 2016 come rete interistituzionale per promuovere la produzione culturale black e celebrare le culture afrodiscendenti nel contesto italiano ecco, la nostra conversazione di oggi parte da spunti offerti da tre film in programma sono tre ritratti di artisti straordinari due donne, Toni Morrison, la prima donna afroamericana ad essere stata insignita del premio Nobel per la letteratura Letizia Battaglia, fotografa e fotoreporter palermitana che ha fotografato per prima tra colleghi uomini le stragi di mafia negli anni di piombo e l'artista cinese Ai Weiwei che è diventato un simbolo dell'attivismo politico ed è stato anche lui insegnito di numerosi premi e riconoscimenti tra cui il famoso Ambassador of Conscience Award di Amnesty International sono tre artisti che in maniera differente hanno tutti messo in pratica i principi della legalità e si sono anche battuti per i diritti umani ciascuno ha un modo suo utilizzando i propri metodi di espressione che possono essere la letteratura, le fotografie o le arti visive parlando di Ai Weiwei in realtà abbiamo visto quanto lui sia un artista che utilizza mezzi molto differenti e strumenti diversi per esprimersi possiamo dire che oltre a realizzare delle opere che potremmo definire concrete quindi degli oggetti o delle installazioni o anche delle fotografie che possiamo trovare in musei e gallerie d'arte lui compie anche delle azioni come ad esempio l'azione di ricerca svolta nel 2008 in seguito al terremoto devastante del Sichuan grazie alla quale è riuscito a risalire al numero delle vittime e anche ai nomi delle vittime che invece erano tenuti nascosti dal governo cinese queste informazioni sono poi state pubblicate sul suo blog grazie anche all'aiuto dei volontari e questo è stato l'inizio di tutta una serie di problemi e conflitti con il governo cinese che l'hanno portato poi addirittura ad essere imprigionato e detenuto in un luogo segreto per 81 giorni guardando il documentario mi ha colpito molto una frase pronunciata dalla madre di Ai Weiwei e che in realtà mi ha anche molto divertito lei dice a un certo punto mi piacerebbe tanto che fosse soltanto un artista quindi Justin vorrei chiederti che cosa significa per te essere artista e se c'è o dovrebbe esserci secondo te un confine tra quello che possiamo definire arte e quello che invece è politica o attivismo politico? intanto grazie per l'invito di essere qua e grazie per averci seguito in questo modo io penso che questa domanda riflette un po' su alcune cose che vengono viste soprattutto nel contesto sociale come un conflitto fra il ruolo dell'artista inteso come era un tempo una volta e invece come si attiva e forse si è sempre attivata nella società quindi si parla di ruolo in un certo senso di arte cioè per me il discorso di essere solo artista in un certo senso era evidente in queste parole della madre di Ai Weiwei che parlava di una certa riflessione sull'arte e cosa dovrebbe fare l'artista e invece io intendo arte come un'opportunità per ricalibrare un po' i valori sociali i valori della società e in questo senso l'artista è sempre attiva nel trasformare le dimensioni reali intorno a sé e soprattutto nei confronti di un artista come Ai Weiwei nell'attivare la comunità nel farlo insieme a lui quindi spesso pensiamo a un artista come Ai Weiwei come protagonista e pensiamo che lui ha fatto questa raccolta di tutti questi nomi però in realtà lui ha trovato un approccio una tattica per attivare tutta una comunità nella ricerca di questi nomi nella ricerca delle famiglie a farle raccontare quello che sanno loro e questa attivazione in un certo senso parte da una dimensione di una visione artistica perché la visione artistica è uno che vede la realtà ma pone domande cioè non accetta le cose base come dati per scontato quindi dicono come mai non sappiamo i nomi chi ce li ha queste informazioni perché il governo non lo sta facendo in che modo possiamo farlo noi in che modo posso usare la mia piattaforma per poi condividere con gli altri queste informazioni che sono cruciali e quindi io vedo la mia arte in un certo senso come un punto di vista un approccio alla vita quindi per me non c'è distinzione fra un qualcosa che sto facendo nello studio per quanto riguarda un oggetto una scultura, un quadro o il lavoro che faccio che viene descritto come facilitore culturale cioè per me è sempre lo stesso ruolo una visione di interagire con la società che c'è intorno attivarli su riflessione su porre domande per cercare di non di avere risposte ma di arrivare a altre domande ancora e quindi c'è di tenerci in un certo senso sempre attivi nella ricerca di qualcosa che non viene presentato Tra l'altro mentre parlavi stanno scorrendo delle immagini anzi un video di un tuo lavoro di una tua performance ce ne vuoi parlare? Sì, questa opera si chiama Dark was the night scuro era la notte è un progetto che è stato realizzato a Baltimora diversi anni fa è nato intorno a un festival in realtà di luci e questo festival di luci era inteso come un momento di celebrazione anche un po' di divertimento però io penso che c'è sempre un modo per mettere insieme un divertimento e un significato sociale e politico avevo trovato nel Baltimora una lampadaria che veniva da una chiesa che aveva cent'anni questo lampadario era stato tolto da una chiesa nella Washington DC per trasformare quella chiesa in un albergo di lusso e ovviamente quando succede questo che una chiesa viene trasformata in un albergo di lusso in un quartiere fra l'altro che era di fronte è stato completamente gentrificato c'era una rispinta da parte della comunità e molto spesso si crede che quando c'è questa spinta della gente al di fuori di un luogo dove vivevano per la produzione di un'altra cultura si immagina la morte di queste persone a livello sociale a livello di significato perché si vede il valore che viene attribuito a loro però io ho voluto dimostrare che in realtà c'è quella lampadaria che aveva una rappresentanza simbolica della spiritualità della luce che in realtà noi possiamo attivarci in qualsiasi momento per renderlo vivo e quindi ho costruito una specie di faro diciamo che era attivato da sei biciclette legate insieme e in un certo senso non potevi accendere quella luce senza essere più persone su quelle bici perché da solo non si faceva e quindi era un invito verso il pubblico la gente locale a venire a accendere questa luce che per cent'anni dava luce alla comunità di Washington DC come gesto simbolico in un certo senso quindi per quanto era legato a questo oggetto specifico era accompagnato anche da un discorso da una persona per me molto importante che è Paul Robeson che era un attore cantante attivista e quando attivava queste bici c'era anche un discorso che si sentiva dall'autoparlante e questo era Paul Robeson in una registrazione che ha fatto dopo Guernica quando lui era in Spagna a cantare contro il fascismo per i soldati e in pratica ha fatto un discorso dove diceva di fronte a questo tipo di distruzione che si vede dell'arte della cultura l'artista e il scienziato sono sfidati e in un certo senso lui diceva che questi sono sfide che non possiamo lasciare stare non possiamo stare da parte l'artista deve decidere per cosa stia lavorando per cosa lottare cosa rappresenta come figura benissimo diciamo che questa citazione rende bene l'idea di quello che sia per te l'arte del fatto che l'artista non debba stare semplicemente a guardare ma in qualche modo debba esporsi e correre anche forse dei rischi parlando appunto di diritti di legalità penso che questi film ci abbiano dimostrato che l'arte possa essere spesso un atto di denuncia un atto di denuncia contro le discriminazioni contro le ingiustizie sociali denuncia anche però contro l'omertà contro la censura la denuncia denunciare vuol dire proprio questo rendere noto qualcosa far conoscere l'etimologia stessa rende l'idea del movimento dell'azione verso la conoscenza e quindi contro tutto ciò che è tenuto scuro censurato o talvolta dimenticato a volte anche la storia e la storiografia possono essere oggetto di censura o di dimenticanza se non addirittura di amnesia e uso volutamente questa parola perché storia e amnesia spesso sono al centro della tua ricerca artistica e anche del lavoro e delle attività che fai con il Black History Month Florence ci vuoi parlare un po' delle vostre attività e anche di quello che significa amnesia storica sì no grazie per questa domanda sì alla fine credo cioè ora io sono una persona che sempre quando parlo da quando ero bambino mi chiamavano Mr. Correct All che significa signor corregge tutto no e ovviamente era un lamento da parte di tutti perché già da bambino quando le persone mi facevano le domande o mi parlavano io volevo fare domande sull'utilizzo delle parole se con quelle parole volessero dire esattamente quello che sembrava no quindi indagavo sempre per arrivare a fondo e secondo me c'è ora l'amnesia storica sono parole che penso che sono un po' sempre da mettere in discussione in un certo senso perché in un certo senso l'amnesia storica può sembrare anche semplicemente una malattia no qualcosa che succede però è importante anche non togliere il fatto che molto spesso è voluto e quindi quando guardiamo la storia la storia come lo intendiamo noi è un racconto molto spesso di chi vince le guerre no infatti c'è c'è un detto un proverbio africano che dice che ora sto cercando di tradurlo anche in pratica la storia andrà sempre in un certo modo quando raccontato dal cacciatore invece di essere raccontato dal leone quando il leone racconta la storia sarà un'altra storia e questo ci porta a una riflessione sulla posizionalità e credo che quello che manca molto spesso nella lettura di storia è capire il modo in cui la posizionalità di chi ha scritto la storia e chi contribuisce alla storia forma non solo la nostra conoscenza del passato ma anche i nostri valori contemporanei e in questo credo che c'è il fatto che volutamente ci sono tante storie tanti elementi che non abbiamo quasi nessun ricordo è anche un modo per andare più in profondità è anche un modo di raccogliere la storia che è legato molto a un contesto accademico molto a un certo tipo di storia che viene raccolta se parliamo di una storia orale c'è un totale ignoranza verso questo tipo di storia c'è anche da dire che ci sono tanti modi di fare produzione culturale che non vengono considerati nel contesto della storia e quindi c'è per me il significato di scordare la storia ovviamente è un po' un racconto che va a narrare quello che sarà il futuro perché quando dimentichiamo volutamente o no o inconscemente delle storie in un certo senso abbiamo un racconto poco completo di quello che ci rappresenta Black History Month Florence è nato un po' in questo contesto qua che dopo io sono un artista che come dicevi prima sono qui da 20 anni e dopo essere qua per 10 anni io andavo sempre negli Stati Uniti per avere discussione sull'afrodiscendenza perché non li trovavo qui non è che non c'erano ma non sapevo dove andare la comunicazione mancava e in tanti casi erano marginalizzati fino a un punto di essere quasi impossibili da riscavare e dopo questi anni che andavo negli Stati Uniti mi sono accorta che quello che trovavo negli Stati Uniti nelle discussioni principalmente fra afroamericani non era quello che stavo cercando qua non era la stessa storia non era il modo di raccontare la storia anzi spesso non era nemmeno concio che c'era un altro modo di raccontare la storia afrodiscendente e quindi tornando qua e poi ho sempre vissuto qua però tornando qua e cercando di vedere che cosa ci poteva essere ho pensato al modo in cui quando si parla di afrodiscendenza in Italia molto spesso veniva narrata attraverso una lente molto contemporaneo quando parlavo della storia afrodiscendente in Italia la gente voleva partire dagli anni 90 e voleva dire guarda gli africani non sono in Italia prima degli anni 90 e la realtà è che no non è così per niente e se vogliamo veramente andare in fondo non c'è un momento storico di documenti dove non c'è la presenza africana sul territorio italiano e quindi se vogliamo narrare la storia afrodiscendente in Italia possiamo cominciare dalla Roma Antica ma possiamo anche andare più indietro all'epoca della pietra quindi in un certo senso questa presenza continua era messa da parte o non considerata importante e invece questo faceva che la rappresentanza di afrodiscendenza in questo contesto veniva narrata da una lente molto preciso che era una storia di migrazione contemporanea e credo cioè poi nel film The Flourner's Home parla proprio esplicitamente anche di questo però il modo in cui viene narrata afrodiscendenza parlando di migrazione è anche in un certo senso considerando la migrazione contemporanea come una cosa unica l'esperienza di tantissime persone come un'esperienza unica la discendenza di queste persone come una cultura unica e tutte queste cose appiattiscono significato di queste storie moltiplice e in più appiattendoli in un certo senso cerco di svanire anche l'umanità stessa di queste persone e quindi Black History è nato come iniziativa per portare insieme una serie di discussioni per mettere in discussione la presenza africana nel contesto italiano da sempre e per cercare di creare un senso anche fra afrodiscendenti di unità senza uniformità perché anche quello non è che quando si parla di afrodiscendenti in Italia c'è un qualcosa non è che c'è una comunità afrodiscendente in Italia ci sono tantissime comunità diversi che possono trovarsi associati o meno a questo tipo di terminologia e queste sono cose che secondo me dobbiamo negoziare tanto di fronte alla storia anche qui abbiamo visto delle immagini di progetti che hai portato avanti con Black History in Montflorence tra cui anche quello dell'Archive Alliance ce ne vuoi parlare perché so che avete coinvolto anche degli studenti giusto per realizzare questo progetto certo sì Black Archive Alliance è nato per rispondere a domande più semplici che mi veniva posto molto spesso quando parlavo all'estero ma anche in Italia di Black History in Italia diciamo ma perché Black History Italia qual è Black History no e ho voluto rispondere a questa domanda con la mia squadra e con l'iniziativa andando quasi a caso negli archivi privati pubblici e per scoprire cioè si pensava di scavare fino in fondo a trovare qualche legame con l'Africa cioè cercando veramente duramente invece abbiamo trovato che qualsiasi archivio sia personale che pubblico aveva tantissime cose legate all'Africa era in superficie queste cose e quindi voleva dire che era semplicemente non narrato non era quello che veniva fuori e noi abbiamo lavorato con le squadre all'inizio abbiamo semplicemente fatto una mappatura di vari archivi e collezioni a Firenze abbiamo lavorato con 20 spazi diversi poi da lì ci siamo spostati su un lavoro fatto direttamente con gli studenti anche perché molto spesso quando si parla di archivio quando si parla di ricercatore ricercatrice usiamo queste terminologie che in realtà limita chi ha accesso a queste cose chi dovrebbe narrare la storia di queste cose e anche quello va un po' studiato va visto è importante anche sfidare un po' quel quadro molto stretto che dice che solo una persona con questa laurea alle spalle può andare in questi spazi perché non dovrebbe essere così se stiamo parlando della nostra storia dobbiamo avere accesso tutti quanti benissimo continuo ad invitarvi a scriverci sulla chat io sono connessa e quindi posso leggere le vostre domande in diretta e riportarle a Justin quindi se c'è anche magari qualche immagine che vi colpisce tra quelle che vedete scorrere potete fare riferimento a quello che guardate per porre delle domande o anche semplicemente condividere delle riflessioni hai citato Toni Morrison nel film The Foreigner's Home abbiamo visto che il film racconta l'esperienza che nasce con una mostra che Toni Morrison ha curato nel 2006 a Louvre che ha questo titolo che può significare due cose in inglese può significare sia la casa dello straniero ma può significare anche lo straniero e casa a partire da questa mostra lei riflette su dei concetti molto importanti che sono quelli dell'identità e anche dell'alterità e lo fa anche in un libro che non è un romanzo ma è una raccolta di riflessioni che si intitola all'origine degli altri e in sostanza lei ci fa riflettere sul fatto che spesso nell'affermazione dell'identità si rischia di sfociare in forme di esclusione e di razzismo come per dire se io sono mi affermo affermo chi sono soltanto se mi contrappongo a qualcun altro o a qualcosa che posso definire altro da me e a questo proposito vorrei magari commentare insieme a te un passaggio dell'introduzione all'edizione italiana di questo libro che è quello che ho appena citato l'origine degli altri che è a cura di Roberto Saviano Tony Morrison racconta scrivendo come il razzismo sia l'inclinazione comune lo spontaneo cercare di sentirsi qualcosa di più che solo individui e per realizzare questa elevazione di sé si seleziona chi escludere esisto solo se escludo qualcuno esistiamo solo se scacciamo nel basso dei commenti e delle gerarchie umane chi ci appare diverso e può essere chiunque il meridionale il nero il bianco isolato il matto il povero il disabile tutti possono essere minoranza in questo mondo non esistono contesti protetti parlando quindi di identità secondo te l'arte può fare può parlare di identità senza il rischio di entrare in questa dialettica perversa dell'esclusione dell'altro o addirittura diventare un contesto protetto io penso che nei primi anni 90 forse anche tardi anni 80 c'era una spinta molto grosso nell'arte verso una riflessione sull'identità e questa è stata una cosa molto importante nel mondo dell'arte contemporanea perché in un certo senso ci portava a vedere delle riflessioni su individui attraverso una lente che era abbastanza sconosciuto dal grande pubblico diciamo però penso che negli anni si è visto che in realtà la lotta era per una rappresentanza in un certo senso attraverso questa identità rendere presente una certa identità e abbiamo visto anche il modo in cui forse non è quello per cui dobbiamo lottare no? Cioè in un certo senso c'è un'altra citazione di Toni Morrison che io trovo super interessante lei parla del fatto che il vero ruolo il vero funziona del razzismo è quello di distrare di distrare le gente che sono racializzati a lavorare per difendersi di fronte a una cosa che è insensato e quindi qualcuno dice qualcosa e qualcuno passa una vita a scrivere un libro per dimostrare che non sia vero e questo è una cosa che a me mi spinge moltissimo nel parlare di razzismo nel contesto di mio lavoro nel lavoro dell'iniziativa che porto avanti attraverso altri termini in un certo senso c'è la visione di capire il lavoro di Black History Month Florence come un lavoro antirazzista e in un certo senso secondo me lo è però c'è da dire che molto spesso se dire e celebrare l'afrodiscendente dimostrare l'amore verso l'afrodiscendente diventa un gesto di antirazzismo vuol dire che abbiamo normalizzato il razzismo in un certo senso e quindi io spingo sempre per cercare anche di costruire un altro modo di riflettere perché in un certo senso facendo così si ignora il fatto di quanto il razzismo sia stato già abbracciato da un contesto sociale e lasciato come una cosa default una cosa di base che c'è e basta io penso che l'arte è sempre una riflessione sull'artista stessa cioè un po' mi fa venire in mente anche un contesto di un griot che conosco e che i griot sono le cantastorie sono quelle figure soprattutto nell'Africa occidentale che mantenevano la storia orale e c'è un griot che vive a Bergamo si chiama Dudu Quatè che mi ha parlato del lavoro del griot e della capacità di una storia orale di andare oltre una storia scritta e questo mi ha colpito molto perché parlava del fatto che quando lui racconta una storia lo racconta ogni volta leggermente diverso lo racconta in base alla persona che ci ha di fronte e quindi cosa sa di quella persona cosa vuole dare a quella persona lo racconta in dialogo con il senso che ha lui di quella storia in quel momento attuale quindi aggiornato al massimo e poi lo fa anche in base all'emotività che ha in quel momento perché c'è anche quello quando le nostre emozioni i nostri sentimenti possono influire il nostro modo di raccontare una storia e per me tutte queste cose ci portano al modo in cui quando si parla di una posizione del ruolo di tutto il lavoro che c'è intorno bisogna pensare a tante dimensioni e l'arte è sempre un po' una mediazione fra questi vari mondi questi vari modi di raccontare Justin ti giro subito una domanda che ci è arrivata sulla chat la domanda è c'è secondo voi una forma d'arte più adatta di altre per sostenere e trasmettere questo messaggio ad esempio la fotografia l'installazione la performance o le arti visive grazie per questa domanda per me io sono un artista che lavora su tantissime media diversi e cerco di non distinguere nel mio lavoro quindi c'è io uso termini sempre scivolosi come in new media uso termini che la gente non sa cosa sono e forse nemmeno io perché sono un insieme di cose io lavoro con la fotografia col video col film con performance con suono con l'installazione e poi io considero tutto il lavoro che faccio con l'iniziativa di Black History Month Florence come una parte del mio lavoro della mia opera artistica anche perché in un certo senso non cambio mai l'approccio e quindi secondo me non è che c'è una media più adatta per questa cosa perché ognuno è capace di esprimere in modo diverso e ogni opera è in modo di esprimere in modo diverso in contesti diversi di fronte a persone diversi quindi c'è sempre una capacità di esprimere la cosa importante in questo contesto più politico secondo me è il fatto di non volere dall'arte la comprensione perché molto spesso secondo me siamo istruiti a credere che arte ci deve portare a conoscere e dover poter rispondere ah ho capito e questa domanda di comprensione in realtà non è una cosa che dovrebbe essere chiesta all'arte l'arte dovrebbe spingere dovrebbe porre delle domande dovrebbe portarci a fare delle riflessioni noi come pubblico e se noi vogliamo semplicemente di capire dall'arte forse lo stiamo chiedendo qualcosa che non può fare e credo che negli arti visivi fotografia pittura è più richiesta questa cosa che in altre medie se pensiamo alla musica è raro che ascoltiamo un brano magari un po' astratto e diciamo non ho capito no siamo in un certo senso tranquilli nel non poter esprimere in parole quello che rappresenta quell'opera nella pittura nella fotografia no vogliamo ma proprio non ho capito e quindi deve essere una cosa non fatta per me e si comincia a costruire tutta una narrazione invece di entrare nel lavoro e dire se ci colpisce o meno e poi decidere se vogliamo andare più in profondità o meno passare più tempo con questa cosa o meno e nessuna di queste decisioni è un bene o un male io mi trovo di fronte a studenti di arte che il 90% delle opere che io vedo non ci passo molto tempo io li vedo e non mi parlano non mi chiedono qualcosa in più non mi chiedono un impegno da parte mia e quindi io li lascio sono solo il 10% delle cose vere e non vuol dire che non sono forti non sono interessanti però non mi portano a quella dimensione dove voglio andare io con l'arte e questa è una cosa del tutto personale e quindi può essere un foto o un'altra cosa che porta fino in fondo un'altra persona e penso che questa libertà di sapere che possiamo giudicare e dire non mi piace o mi piace come possiamo dire voglio saperne di più o no e non dobbiamo capire perché anche quello in un certo senso dà per scontato che l'artista capisce l'arte anche quello che fa l'artista risponde a una serie di stimoli e crea qualcosa però qualcosa che ha creato in un certo senso può essere estraneo a lui o lei quanto al pubblico e quindi c'è una riflessione anche lì di cerca di ricerca grazie grazie continuate appunto a scriverci sulla chat anzi è arrivata subito un'altra domanda quindi ne approfitterei volevo chiedere se ha senso parlare di black art quando si vuole definire le opere realizzate da artisti afrodiscendenti ecco una bella domanda veramente importante in un certo senso è importante non parlare di black art in un certo senso perché non significa niente black art per dire l'arte degli afrodiscendenti come dire black culture sono quadri molto generalizzati e non hanno confini precisi non hanno significato così particolare poi perché molto spesso nel contesto soprattutto del mondo dell'arte del mercato di arte quando dici black art la gente crede di sapere di cosa si tratta e anche questa è problematica io dobbiamo dire che il mondo dell'arte nel mondo dell'arte piace moltissimo fetticizzare le cose e quindi definire black art è un modo per portare un pubblico che si sposa con queste idee queste riflessioni che crede di trovare là però è anche un grosso limite e quindi in un certo senso ci porta a pensare a cosa significa contestualizzarsi cioè noi come artisti contro l'essere contestualizzati dagli altri perché c'è un conto se io mi definisco un artista afrodiscendente e voglio dire questa cosa e un altro ancora essere definita afrodiscendente da qualcun altro dove magari non mi ci trovo in questo linguaggio non mi ci trovo in tutto e quindi penso che sia importante chi lo sta dicendo e perché e c'è da dire che ci può essere un grandissimo limite ma c'è anche una grandissima forza che si può trovare perché trovarsi insieme con altri artisti che si definiscono afrodiscendenti è una dimostrazione di un potere di condivisione con una diversità di afrodiscendenti che ci sono nel mondo che secondo me quello ha sua forza però è facile strumentalizzare questo utilizzo di un termine quando non è un'autodefinizione ma anche delle volte quando è un'autodefinizione Sì in effetti quello che dici in relazione a chi è che dà la definizione è molto interessante anche quando si parla di musei quando si parla di per esempio di sezioni di arte africana e capire se quelle sezioni magari sono state messe lì da chi e se c'è stato anche magari un contributo di una comunità afrodiscendente o afroamericana e dico questo perché mentre parlavi stavamo guardando delle immagini che hanno a che fare con un museo il museo degli uffizi e questo è un altro progetto di cui ti sei occupato e che hai curato ce ne vuoi parlare? Sì no è giustissimo che quando si parla di arte africana è quasi problematica in un altro senso ancora molto spesso è arrivare molto brevemente a un punto la riflessione dell'Africa come una cosa unica piatta senza tutte le culture tutte le lingue tutta la geografia immensa e tutte le tipologie e storie dell'arte diversi che ci sono e penso nel contesto soprattutto attraverso i musei etnografici c'è stata una definizione di cos'è l'arte africana che prevale tutt'oggi cioè quando parliamo di arte africana molto spesso la gente anche se dice arte contemporanea africana comunque stanno pensando a quegli oggetti raccolti in musei etnografici e quando si parlava prima di funzione dell'arte sono messi in un contesto dove la funzione di quali oggetti il contesto di quali oggetti è completamente smarita e rimpiazzato con un'altra narrazione ancora sempre più piatta e il progetto che abbiamo fatto nelle gallerie degli uffizi si chiama On Being Present essere presente e in un certo senso quando si pensa alla storia dell'arte soprattutto a Firenze pensiamo molto spesso alla storia dell'arte del rinascimento in un certo senso abbiamo in mente che la storia dell'arte rinascimento ci è stato insegnato in modo più preciso oppure che abbiamo una narrazione più equilibrata di quella storia perché è proprio quello che vogliamo celebrare e ho notato che come in qualsiasi di narrazione storica come si diceva prima ci sono delle assenze e quindi io dal 1999 che ero qua a Firenze mi trovavo in questi musei di fronte a opere dove trovavo figure africane e quando andavo a cercare nei libri nei racconti non c'era nessuna traccia e mi sembrava evidente che non è che non c'è nessuna traccia ma perché non stiamo parlando di... io voglio sapere chi è come mai c'è questa figura cosa rappresenta cosa significa e cosa ci dice di Firenze rinascimentale perché in un certo senso sono prove evidenti di una presenza che c'era in quel momento che era diciamo abbastanza diffuso e quindi quando però quando sentivo anche la narrazione della storia rinascimentale da parte degli uffizi non c'era nemmeno là queste presenze e quindi ho invitato un gruppo di studiosi che lavorano su questi soggetti da tempo altri che lavorano sulla storia dell'arte rinascimentale ma magari non hanno mai riflettuto su queste figure specifiche e li ho invitati a scrivere dei brevi testi scritti in un linguaggio non troppo tecnico per essere sul sito degli uffizi in una mostra virtuale e in un certo senso è emerso una presenza già abbastanza forte e diversificata perché ci sa immagine di re come ci sa immagine di schiavi e questo misto di presenze che sono presenti lì sono un po' un misto di presenze che ci sono sempre stati quindi non c'è sempre stato solo lo schiavo nel contesto italiano nella storia non c'è stato solo non lo so la badante per tornare ai giorni di oggi e secondo me queste riflessioni sono importanti e abbiamo visto che solo con la presentazione di questa mostra qua che raccontava quello che c'è stato da sempre nella collezione degli uffizi non sono quadri che siamo andati nel magazzino a cercare sono lì esposti solo parlando di queste figure e non in modo critico verso il museo ma semplicemente dicendo questo figura si chiama era di c'ha quest'età nel quadro poteva rappresentare questo e scatenato anche dalle proteste vabbè erano proteste di destra però è importante perché erano proteste di destra che loro dicevano giù le mani dal nostro patrimonio e questo detto mi ha colpito moltissimo perché mi ha fatto capire che in un certo senso volevano difendere gli uffizi da me e da noi che è una cosa importante quando si parla del ruolo dell'artista io ho collaborato con gli uffizi per creare il progetto non l'ho fatto così dall'esterno in più sto parlando di roba che c'è già là non sto maneggiando il patrimonio però loro stavano parlando di quello che rappresenta quel patrimonio il modo in cui è stato narrato quel patrimonio e se continuiamo a narrare il patrimonio attraverso questa lente miopica che non vede nemmeno la roba che c'era in presenza proprio evidente vuol dire che abbiamo grossi problemi vuol dire non stiamo parlando della storia stiamo proteggendo quella versione della storia esattamente come è stata preservata per obvi motivi di potere e quindi anche quello secondo me è una cosa importante i quadri ci sono due edizioni abbiamo fatto il progetto per due anni ed è consultabile anche sul sito giusto? certo quindi potete andare sul sito degli uffizi e scoprire di più di questo progetto è interessante anche questo quello che tu ci dici di questa reazione del pubblico e forse ci fa riflettere sul fatto che il razzismo magari è una parola di cui si sente tanto parlare a volte si dimentica qual è il suo vero significato e forse qualche volta si può anche incorrere nel rischio di non riconoscere il razzismo quando in realtà è ancora molto presente nelle nostre società ancora oggi quindi non è un qualcosa legato al passato ma c'è ancora oggi certo sì penso che c'è il riconoscere il razzismo in un certo senso non è tanto riconoscere il razzismo quanto riconoscere una certa violenza che è implicito nella storia cioè noi si era parlato anche prima si parlava di bellezza e penso che quando si parla di monumenti quando si parla della storia dell'arte si torna molto spesso su una riflessione anche estetica magari dei monumenti io prima di venire in Italia sono rimasto affascinato dagli archi di trionfo perché li vedevo nei film fatti negli anni 60 negli Stati Uniti per parlare della storia romana e mi hanno sempre colpito perché erano queste cose enormi erano sempre decorati con tantissimi tipologi di arti diversi da basso rilievo alla scultura tutto tondo e mi piaceva in più perché erano attivi cioè li usavano passavano sotto e quando sono arrivato in Italia e ho visto quegli archi di prima persona anzi quando li ho visti nei slide negli immagini dei positivi dei miei insegnanti che mi parlavano di perché erano importanti nella storia dell'arte mi sono chiesto vedendo che palesemente c'è la rappresentanza di genocidi enormi cioè dello sterminio della gente e diciamo di rubare tutto quello che c'era ed è ritratto proprio chiaro e tondo in più è fatto con tutte queste meraviglie quindi una bellezza eterna di queste cose poi create veramente per rimanere per l'eternità mi sono chiesto perché i miei insegnanti non mi parlavano del fatto che questi in realtà rappresentavano una dimensione coloniale di entrare a occupare territori di altri ammazzando tutti chi non veniva ammazzato diventava schiava questo non era il modo in cui la storia romana mi è stata narrata in un certo senso parlare dell'arco di trionfo solo parlando della sua bellezza lascia da parte tutta l'atrocità che rappresenta e secondo me è importante perché non è una cosa sottile di sottofondo e lì in modo proprio chiaro questa colonna di tre anni ci sono due a Roma famosissimi con questo basso rilievo che va tutto intorno ci sono mi sembra tipo duecento di capitazione cioè non provano a nascondere cosa significasse quel gesto lì e quindi dobbiamo noi non far finta di non vederlo quindi dobbiamo apprezzare anche l'ingenuità di quella colonna che è bellissima della sua bellezza anche perché esteticamente è una cosa pazzesca però dobbiamo capire cosa rappresenta quindi passare dall'estetica di una cosa al suo significato e pensare non solo all'artista che l'ha creato ma anche a chi l'ha commissionato e perché per quale motivo a chi doveva parlare quella cosa perché queste sono riflessioni dell'arte anche oggi quando si parla di chi è che l'ha commissionato chi l'ha esposto chi l'ha creato per chi con chi stava parlando tutte queste domande ci fanno entrare più in dettaglio del significato del lavoro e in un certo senso non ci lasciano quello spazio di svago nella bellezza sola quindi un'capacità di apprezzare la bellezza anche semplicemente come un qualcosa di indescrivibile che però ha la sua dimensione anche sociale grazie visto che hai fatto riferimento alla bellezza vorrei citare un passaggio del film su Letizia Battaglia perché c'è una frase che lei pronuncia che mi ha molto colpito lei dice a un certo punto di aver sognato e immaginato più volte di bruciare le sue fotografie dice perché voleva togliere vorrebbe toglierle quella bellezza che ci vedono gli altri come se volesse preservarne quasi solo l'orrore non anche la bellezza di quegli scatti che parlano chiaramente di violenze inaudite questo rapporto tra orrore e bellezza la bellezza molto spesso pensiamo sia una prerogativa dell'arte secondo te invece in alcuni casi l'arte deve poter fare a meno della bellezza anche in relazione alla tua esperienza a quello che tu fai al tipo di arte che tu fai di sicuro dipende come intendiamo la bellezza perché secondo me la bellezza è come dicevo prima qualcosa di indescribibile qualcosa che non riusciamo a mettere in parole molto spesso e per quello che ci troviamo di fronte a volte a qualcosa di veramente orificante e ci troviamo a dire ma è bello questa cosa perché c'è qualcosa che ci spinge a non poter comunicare in altri termini secondo me è importante ricordare che non abbiamo un grandissimo linguaggio per parlare di arte e non ci viene istruito nei corsi della storia dell'arte nemmeno e quindi forse non devono essere lì delle parole precise però questo fatto fa sì che ci troviamo di fronte alle foto di Letizia Battaglia per dire di gente ammazzata e possiamo per il modo in cui vediamo una composizione o il modo in cui la luce colpisce la figura pensare attraverso i termini di bellezza e non è sbagliato dire che è bello però è preoccupante nello stesso tempo e dovrebbe essere preoccupante e lo stesso sui monumenti di cui parlavo stiamo guardando delle cose veramente atroci ma riusciamo a dire ma che bella questa scultura perché è così cioè è bella però secondo me molto spesso abbiamo un'idea della bellezza anche che è legato a una certa positività un qualcosa di ideale qualcosa che desideriamo che vogliamo e secondo me la bellezza può essere intesa anche in altri modi cioè un qualcosa che colpisce che non si riesce a esprimere per me l'arte di sicuro può fare almeno delle bellezze in un certo senso non è quello di sol cioè per me non è quello che mi spinge a creare ciò non vuol dire che non sono informato anche inconsciamente di tutti i valori della storia dell'arte che mi ha insegnato però per dire nel mio lavoro io faccio tante ricerche anche su quegli approcci al lavoro che non vengono considerate arte tutti quei lavori che servono una conoscenza precisa per farli ma noi non diamo molto peso e in quello c'è una bellezza cioè noi possiamo andare in una fabbrica di qualsiasi oggetto e dire cavolo c'è questa persona che è in grado di fare questo gesto qua e farlo sembrare nulla è bello il gesto in sé può essere bello per quanto sia attroce la condizione in cui si trovano tutto quello che c'è alle spalle e quindi in un certo senso c'è un posizionare questo termine dove non riusciamo a dire altro infatti ci fermiamo di fronte alla bellezza di solito ci fermiamo non proviamo nemmeno a descriverlo se non attraverso un linguaggio più poetico l'arte di sicuro può prescindere dalla bellezza però non vuol dire che quando qualcuno si trova di fronte a quell'arte non li verrà da dire bello perché bello può essere anche solo la riflessione che ha prodotto un'opera d'arte qualcuno vede un qualcosa che non è bello per niente però dice cavolo la riflessione che ha portato questo oggetto ad essere è bello e quindi dicono bello e vorrei dire che nella lingua italiana trovo che poi bello è questa questa parola che viene forse dobbiamo cercare ancora di più in questo contesto di altre parole che possono avere un significato simile perché ci sono abituato nel contesto di in inglese dire beautiful no non si direbbe in tantissimi contesti parlare di beauty è una cosa un po' più raro si parla solo in determinati contesti si usa altre parole per esprimere una cosa che ci piace o ci stimola però bello in effetti perché si dice che bello come esclamazione e quindi forse è anche legato a questo in questo contesto neanche al linguaggio che utilizziamo ancora una volta parlando invece di legalità la legalità è un concetto e anzi è un principio complesso a volte stabilire un confine tra ciò che è considerato legale e ciò che è considerato illegale è molto difficile questo si vede bene nel film di Ai Weiwei dove le azioni dei poliziotti sono considerate legali e quindi possono detenerlo malmenarlo mentre è illegale l'azione dell'artista che magari pubblica semplicemente delle informazioni su internet oppure scatta delle fotografie davanti a un tribunale quindi la legalità non è semplicemente l'agire secondo la legge ma implica qualcosa in più implica la capacità di andare anche contro alcune norme accettate comunemente di metterle in discussione se queste comportano delle violenze o delle ingiustizie in questo senso mi viene da pensare che forse praticare la legalità in alcuni contesti significhi anche fare delle forme di resistenza mettere in atto delle forme di resistenza e l'abbiamo visto anche nel caso di Letizia Battaglia che si è si è spinta laddove nessuno era mai riuscito a spingersi per esempio andare ai funerali dei mafiosi dove i mafiosi erano più visibili più esposti più riconoscibili ma allo stesso tempo lei anche si rendeva più vulnerabile più riconoscibile ai loro occhi quindi un atto di resistenza che comporta talvolta anche dei rischi secondo te l'arte può essere in questo senso un atto di resistenza? io credo che l'arte è sempre un gesto di resistenza e lo dico perché io per tanti anni ho insegnato creatività e quando si insegna creatività una delle prime cose che va detto è che questa parola come dell'altra bellezza è una parola che forse va un po' studiato perché ci sono tantissime persone nel mondo che dicono io non sono creativo però se rimpiazzi quella parola con la parola curioso o curiosità che è più accurato è più raro avere qualcuno che dice non sono curioso tutti possiamo essere tutti e tutti possono essere curiosi di qualcosa nel mondo e la creatività per me è quello cioè essere curioso andare a indagare là dove non c'è necessariamente motivo delle volte e quindi in un certo senso io dico sempre ai miei studenti come a tutti gli artisti che incontro io ritengo che il lavoro qualsiasi lavoro artistico è un lavoro importante perché è una cosa che va contro quello che vuole la società perché purtroppo la società si vede questo bene nel 2021 non dà molto valore alla cultura contemporanea vedere la cultura come una cosa del passato che per noi è importantissima ma non siamo più capaci in un certo senso di creare non c'è la riflessione che c'è una continuità da sempre fino ad oggi che è l'arte e quindi c'è la società sminuendo il valore della cultura della creazione dell'arte rendendo illegittimo in un certo senso l'operare come artista in Italia ma non solo in Italia quando io dico che sono un artista la gente dice sì ma cosa fai però cosa altro non puoi fare l'artista che significa anche perché in un certo senso tendiamo a dire che siamo artisti come dire mestiere l'arte non è necessariamente un mestiere e secondo me l'atto di resistenza di dire io sono un artista io lavoro con l'arte di fare qualsiasi gesto di arte è importante come resistenza e la legalità ha a che fare con l'autorità cioè chi definisce nostre regole chi decide cos'è che dobbiamo fare cos'è a cui dobbiamo dare valore questo anche nei libri della storia stessa che vengono prescelti per noi e non siamo spinti a chiedere chi è che li abbia scritto cioè io non mi sono mai posto la domanda a scuola chi è che ha scritto questo libro qua quando magari non mi piaceva il libro non dicevo ma chi è che l'ha scritto e come mai che storia ha questa persona invece sarebbe una cosa giustissima da fare come domanda stiamo leggendo questo questa è la storia che ci viene presentata come mai che autorità ha che legittimità ha e in un certo senso c'è un discorso di James Baldwin degli anni 60 che lui era a un liceo nella California e lui parlava del fatto che fare educazione in modo serio che vuol dire portare studenti a una capacità di porre domande a tutto cioè di non prendere per scontato nulla non dare per scontato nulla nemmeno l'autorità dell'insegnante stesso quindi c'è di porre domande su tutti i fronti di dire allora e non è che non si può arrivare a dire sì questo è un'autorità c'è legittimità nell'essere dell'autorità però bisogna prima porre la domanda no? e questo lui dice che il senso dell'educazione produrre gente capace di fare domande va contro i valori della società che vuole essere tranquilli e quindi vuole che la gente va e segue una certa strada senza fare tante domande di questo tipo e questo è una cosa che noi stiamo istruiti per rimanere dentro una certa legalità già prescritta poi a secondo dove siamo possiamo parlare di una validità di 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 essere legale o meno e possiamo vedere che ci sono sempre soggetti che non sono trattati nello stesso modo di fronte alla legge anche questa è un'altra discussione ancora e secondo me c'è l'illegalità cioè io nel mio lavoro cerco sempre di pensare al gesto di un senso di occupazione un senso di prendere qualcosa anche se non è non è mio di entrare a occupare una cosa che si tratta di uno spazio o un'idea giusto per farlo per dire guarda questo è possibile se vogliamo immaginare questi non sono limiti per noi io credo che molto spesso nostra istruzione dopo i primissimi anni di vita che ci spingono a creare a cercare a cercare di ampliarci di più dopo è tutto costruito per farci andare sempre più su preciso e sempre più verso una certa legalità a porre meno domande c'era tra l'altro un video se non sbaglio su una performance su un atto di occupazione visto che adesso hai parlato di questo nel frattempo ti dico che ci è arrivato un altro commento da Jenny che scrive vero l'arte non è un mestiere anche se spesso lo è quindi interessante questo riferimento al fatto che l'arte spesso venga considerata solo soltanto come un mestiere ma non è soltanto quello penso che le cose sono legate in un certo senso nel modo in cui siamo istruiti noi siamo istruiti per capire che c'è una sola risposta possibile una sola modo di essere nel mondo e quindi siamo spinti verso un mondo del lavoro e di lavoro di produzione per una certa struttura che ci ha predeterminata e quindi in realtà abbiamo pochissimi scelti in un certo senso se seguiamo queste strade e quindi per forza se noi pensiamo che noi stiamo lavorando per arrivare a fare un mestiere a un certo punto vediamo che l'arte vediamo arte anche come un possibile mestiere in un certo senso quando in realtà forse c'è anche immaginare altri mestieri come il fabbro non è necessariamente che dobbiamo pensarli anche in quella lente lì perché chi ti dice che le conoscenze che ha un fabbro non li applica in tutto il resto della sua vita in tutto quello che fa forse va a definire del tutto la sua realtà per l'arte è così l'artista è un modo di riflettere sulle cose di mettere in discussione delle cose quindi è sempre presente non si spenge io quando mi sposto a fare qualsiasi ruolo nella mia vita dal padre all'insegnante io sono sempre artista in qualsiasi momento non lo so se si vede ma comunque non è una cosa che io spengo a un certo punto benissimo allora io se non arrivano altre domande direi che possiamo anche chiudere questa conversazione siamo più o meno nei tempi che ci eravamo prefissati e mi piace anche chiudere con questa idea che l'arte possa essere una forma di resistenza e che possa farci porre delle domande quindi mi auguro che questa conversazione abbia stimolato un po' la vostra curiosità visto che abbiamo parlato anche di quello e vi abbia posto un po' di domande come forse anche hanno fatto i film che vi abbiamo proposto in programma quindi anche se non sono arrivate o che non arriveranno magari in questo istante però potete continuare a rifletterci e vi invitiamo a farlo vi invito inoltre a seguirci anche mercoledì pomeriggio sempre alle 15 dove continueremo appunto con le conversazioni e parleremo invece con Sara Funaro assessora al welfare e all'educazione del comune di Firenze di Ambiente grazie mille Justin ancora una volta per il tuo contributo no grazie a te grazie a voi per aver seguito e per aver visto questi film che sono importanti per tutti e grazie ancora al Cinema La Compagnia e a tutte le persone che hanno collaborato con noi oggi ma negli scorsi mesi per rendere possibile questo progetto grazie e a mercoledì buon pomeriggio grazie a tutti